Siamo al mercatino di ConfCommercio qui in Galleria Gramsci, è un'iniziativa che verrà portata avanti tutti lunedì, mercoledì e venerdì, se non sbaglio, la mattina. Il suo nome? Andrea. Lei vedo che ha portato dischi, piace questa iniziativa in questo luogo perché l'importante è che sia qui per riqualificare un quartiere. Speriamo, speriamo funzioni. Per ora come le sembra? Presto. Però ha visto, insomma, lei ha detto che non è di qui, questo quartiere che impressione le ha fatto? Pessima. Ecco. Quindi magari ci vorrebbe un'iniziativa così per cercare di ripopolarlo, di far venire? Ma non siamo noi che sempre può risolvere il problema, se no ci si piglia in giro. Vabbè, però intanto un piccolo passo. Ci proviamo. Intanto facciamo un appello, magari se vengono anche i cittadini, passano di qui, è meglio. Ma perché farlo? Grazie. Non le faccia queste cose. Grazie, grazie, grazie. 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 Grazie.